Gli impatti occulti degli zuccheri insulinici sulla salute cardiaca Gli zuccheri insulinici hanno preso piede nella dieta moderna, diventando quasi onnipresenti. Questi carboidrati, che stimolano rapidamente la produzione di insulina, si trovano in molti prodotti trasformati, influenzando la nostra salute in modi che spesso ignoriamo. Gli zuccheri insulinici, noti anche come carboidrati ad alto indice glicemico, provocano un rapido aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Questa caratteristica li rende particolarmente dannosi quando consumati in eccesso, contribuendo a vari problemi di salute. Ma prima di iniziare con questo video, voglio invitarti a mettere un bel like. In questo modo aiuterai il nostro canale a crescere e a prendere iniziative interessanti per creare i video come questi. Il cuore, motore vitale del nostro corpo, pompa incessantemente sangue arricchito di ossigeno a tutti i tessuti. Per mantenere questa attività cruciale, il cuore richiede un apporto costante di nutrienti e un ambiente salutare, libero da sostanze nocive. Il consumo eccessivo di zuccheri insulinici si collega direttamente a malattie cardiache. Questi zuccheri, infatti, possono contribuire all'accumulo di grasso attorno al cuore e nelle arterie, aumentando il rischio di patologie come l'arteriosclerosi. Questi stessi zuccheri influenzano anche negativamente la pressione sanguigna. Elevando rapidamente la glicemia, inducono il corpo a rilasciare più insulina, che a lungo termine può portare a ipertensione, mettendo ulteriormente a rischio la salute del cuore. Gli zuccheri insulinici hanno un impatto diretto sul livello di colesterolo nel sangue, incrementando il rischio di malattie cardiache. Un consumo eccessivo può portare a un aumento del colesterolo cattivo, mentre diminuisce quello buono, fondamentale per la salute del cuore. L'infiammazione è un altro effetto negativo degli zuccheri insulinici sulla salute cardiaca. Questi zuccheri possono innescare processi infiammatori nel corpo, mettendo a dura prova il cuore e aumentando il rischio di sviluppare patologie croniche legate all'apparato cardiovascolare. La resistenza all'insulina causata da un alto consumo di zuccheri insulinici può avere conseguenze devastanti per il cuore. Questa condizione rende difficile per il corpo regolare il glucosio nel sangue, aumentando lo stress sul cuore e favorendo l'accumulo di grasso arterioso. Gli zuccheri insulinici giocano un ruolo cruciale nell'incremento del rischio di aterosclerosi, un restringimento delle arterie dovuto all'accumulo di placche. Questo processo può ridurre il flusso sanguigno al cuore, aumentando il rischio di infarti e ictus. Studi recenti hanno evidenziato un forte collegamento tra il consumo di zuccheri insulinici e l'insufficienza cardiaca. La relazione Tra un'alimentazione ricca di questi zuccheri e il deterioramento della funzione cardiaca dimostra l'importanza di moderarne l'assunzione per proteggere il cuore. Gli zuccheri insulinici, presenti in abbondanza nella dieta moderna, contribuiscono significativamente al sovrappeso, un noto fattore di rischio per le malattie cardiache. La loro assunzione eccessiva favorisce l'accumulo di grasso, mettendo sotto pressione il cuore e aumentando il rischio di patologie cardiovascolari. L'impatto a lungo termine degli zuccheri insulinici sul sistema cardiovascolare è profondo. Alterano il metabolismo lipidico e la funzione endoteliale, predisponendo a malattie croniche come l'ipertensione e l'aterosclerosi. Questi effetti compromettono la salute del cuore, riducendo la sua efficienza. L'attività fisica gioca un ruolo chiave nel contrastare gli effetti negativi degli zuccheri insulinici sul cuore. L'esercizio regolare aiuta a migliorare la sensibilità all'insulina, a gestire il peso corporeo e a mantenere il sistema cardiovascolare in salute. Integrare alimenti a basso indice glicemico nella dieta quotidiana è essenziale per proteggere il cuore. Questi cibi contribuiscono a una migliore regolazione della glicemia e dell'insulina, riducendo l'infiammazione e migliorando la salute cardiovascolare complessiva. La consapevolezza alimentare è fondamentale per proteggere il cuore dagli effetti nocivi degli zuccheri insulinici. Comprendere quello che si mangia aiuta a fare scelte più sane, riducendo il rischio di malattie cardiache legate all'alimentazione. Questa consapevolezza inizia dalla lettura attenta delle etichette alimentari. Leggere le etichette può essere una vera e propria strategia di difesa contro gilli zuccheri insulinici nascosti. Molti prodotti presentano zuccheri aggiunti sotto nomi diversi, rendendo essenziale imparare a riconoscerli. Questo passo semplice ma efficace può fare una grande differenza per la salute del cuore. Lo stress è un altro fattore che, insieme al consumo di zuccheri insulinici, può avere un impatto negativo sulla salute cardiaca. Gestire lo stress attraverso tecniche di rilassamento e mindfulness può ridurre il desiderio di cibi ricchi di zuccheri, favorendo così un cuore più sano. Gli zuccheri insulinici influiscono negativamente sul metabolismo, un meccanismo che, se compromesso, può portare a una serie di problemi cardiaci. È quindi cruciale limitare il loro consumo, favorendo al contempo un'alimentazione equilibrata che supporti un metabolismo sano. Ridurre gli zuccheri insulinici nella dieta non solo è possibile, ma può diventare un'avventura culinaria. Esplorare alternative naturali, come la stevia o il miele, può arricchire le ricette mantenendole gustose. Inoltre, privilegiare frutta e verdura fresca contribuisce a una riduzione significativa di questi zuccheri, promuovendo al contempo un'alimentazione ricca di nutrienti. L'importanza dell'idratazione adeguata si intreccia strettamente con la riduzione degli zuccheri insulinici. Sostituire bevande zuccherate con acqua o tisane non solo aiuta a eliminare calorie vuote, ma migliora anche il metabolismo e la funzione cardiaca. Mantenere il corpo ben idratato è un passo semplice ma efficace verso una salute ottimale. Durante l'attività fisica, la pressione arteriosa subisce variazioni naturali. L'assunzione eccessiva di zuccheri insulinici può esacerbare queste fluttuazioni, compromettendo la salute cardiovascolare. Scegliere snack sani e bilanciati prima dell'esercizio può aiutare a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, favorendo una migliore performance e protezione cardiaca. La dipendenza da zuccheri è un fenomeno reale che affligge molte persone, rendendo arduo il percorso verso una dieta equilibrata. Comprendere i meccanismi biologici alla base di questa dipendenza è fondamentale per superarla. Piccoli passi, come ridurre gradualmente la quantità di zuccheri consumati e trovare piacere in cibi meno dolci, possono fare una grande differenza. Le bevande zuccherate rappresentano una delle maggiori fonti di zuccheri insulinici nella dieta moderna e sono strettamente correlate a rischi per la salute del cuore. Eliminarle o limitarne drasticamente il consumo può avere effetti positivi immediati sulla salute cardiovascolare. Sostituire queste bevande con alternative più sane è un cambio di abitudine accessibile e benefico per tutti. Gli zuccheri insulinici possono gravemente influenzare la qualità del sonno, creando un circolo vizioso che compromette la salute cardiaca. Un riposo notturno disturbato aumenta lo stress e l'infiammazione nel corpo, peggiorando ulteriormente le condizioni del cuore. La differenza tra zuccheri naturali e insulinici è fondamentale per la salute del cuore. Gli zuccheri naturali presenti in frutta e verdura apportano nutrienti essenziali senza sovraccaricare l'organismo, a differenza degli zuccheri insulinici che stimolano l'accumulo di grasso e l'infiammazione. L'equilibrio ormonale gioca un ruolo chiave nella prevenzione dei danni cardiaci causati dagli zuccheri insulinici. Mantenere livelli stabili di insulina e glucosio attraverso una dieta equilibrata aiuta a proteggere il cuore e a prevenire disturbi metabolici. Ridurre gli zuccheri insulinici nei bambini rappresenta una sfida, ma è essenziale per instaurare fin da piccoli le basi per un cuore sano. Educare sulle scelte alimentari sane e limitare le bevande zuccherate sono passi fondamentali verso questo obiettivo. Concludendo, gli effetti nocivi degli zuccheri insulinici sulla salute cardiaca sono molteplici e spesso sottovalutati. Adottare un approccio consapevole all'alimentazione, privilegiando cibi a basso indice glicemico e mantenendosi attivi, è cruciale per proteggere il cuore a lungo termine. Se credi che quanto hai appreso fino qui possa esserti utile, allora lo sarà anche per altre persone. Per questo ti invito a condividere questo video con le persone che ami alle quali vuoi dare un'informazione di valore per la propria salute. Bene, siamo giunti alla conclusione di questo video. Se queste informazioni ti sono piaciute, ti invito a iscriverti al canale ed attivare la campanellina per non perderti i prossimi video in programmazione. Nel frattempo, ti invitiamo a prenderti cura del tuo cuore. Ci vediamo al prossimo video!